Deve esserci qualcun altro in casa. Vecchi, ragazzini, la domestica. Forse Spencer metterà fuori la sua testaccia e ci farà qualche segnale. Forse dà un'occhiata come ha detto. Per maggiore sicurezza. Sì, forse il presidente mi nominerà segretario della FICA. In questo momento si sta fregando i pezzi di maggior valore. Preparati, andiamo lì dentro. Questa stronza non si vuole aprire. Senti, Leroy, questa entrata di forza non mi sembra una buona idea. Senza contare che ho appena compiuto 13 anni. Può portare i jela. Quando hai 13 anni sei jellato comunque. Sei vecchio per succhiare le tette e troppo giovane per chiavare. Sei fottuto come ti muovi. Dio, guarda qua. Senti, Leroy, secondo te ho le qualità per diventare dottore? Sì, dottore in violazione di domicilio. Io ti sto insegnando un'arte, ragazzo. Non c'è porta che resista, Leroy. Hai visto? Abbiamo sverginato anche questa. Ceduto. E a coscia aperta.